Tantan per me è un grande sogno, è una cosa che è sbucata dal nulla perché non te l'aspetti. Il basket per me è una benedizione, quasi quasi direi che sono nato per giocare al basket. Abbiamo dato una pari opportunità a questi ragazzi di poter fare sport come i loro amici. Se siamo nati qua, per me siamo italiani. Non è giusto che gli altri giocano e noi no, perché siamo, cioè forse pelle diverse, vabbè, possiamo dire. Naturalmente anche da buoni sportivi non si può accettare una sconfitta in partenza, bisogna giocarla alla partita. Avevano bisogno di un sogno e gli è stato dato come sogno il basket e non se la sono lasciata sfuggire. Avevano bisogno di un sogno.